Fare tutto il possibile per mantenere l'utilizzo dell'infrastruttura ai livelli attuali e salvaguardare l'accesso democratico alla mobilità aerea determinato dai vettori low cost. Queste le volontà comuni emerse nel corso della riunione promossa dalla Regione Abruzzo nella sede pescarese con l'obiettivo di attivare ogni iniziativa utile a consolidare la crescita e la produttività dell'aeroporto d'Abruzzo. Intendiamo confermare l'operatività in essere nello scalo regionale, afferma il Governatore Luciano D'Alfonso, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle normative italiane ed europee. E nostra intenzione è avviare trattative anche a livello governativo e comunitario, ha aggiunto il Governatore, per evitare qualsiasi disimpegno dalle rotte che interessano l'Abruzzo. Chiederò anche un incontro ai vertici della Raia Nera a breve. Noi stiamo lavorando anche nei confronti del Ministro delle Infrastrutture e del Presidente della Commissione parlamentare competente. Io in settimana prossima andrò anche in Europa perché voglio che i nostri parlamentari europei a cominciare dal capogruppo della formazione politica che mi vede impegnato sia attivi. Noi abbiamo bisogno di una modernizzazione della norma europea. È lì che c'è la radice delle questioni ed è anche lì che dobbiamo operare. Io non sono pessimista, però quello che serve è che la soluzione sia sostenibile e compatibile con le leggi italiane ed europee. Alla riunione ha partecipato anche Nicola Mattoscio, Presidente della SAGA, Società di Gestione dello Scalo. Il contributo al PIR regionale che deriva dall'aeroporto, secondo studi economici, ammonta ad una cifra compresa tra 750 milioni e il miliardo di euro, ha detto Mattoscio. Trovare soluzione al problema Raia Nera occorre sforzarsi di trovare soluzione a garantire in maniera irreversibile la connettività della nostra comunità con il resto del mondo. Certamente questa importante compagnia è una importantissima opportunità in tal senso. I problemi che ci sono rivendigliano che si faccia a sistema e quindi la regione in quanto tale, il governo nazionale e l'Unione europea debbono essere spinti e convergere a essere spinti su un principio irrinunciabile, cioè che il ruolo del low cost e il ruolo degli aeroporti minori regionali contribuiscono entrambi a realizzare un livello più avanzato di coesione sociale nella nostra nuova Europa e soprattutto contribuiscono a garantire il diritto di accesso alla mobilità veloce per noi nuovi cittadini europei. Il vettore irlandese trasporta poco meno di 500 mila passeggeri sul totale di circa 600 mila utenti che transitano nello scalo di Pescara e l'addio da parte della compagnia potrebbe mettere a rischio le sorti dell'aeroporto. La saga vuole quindi mantenere la presenza di Ryanair ma non rinuncia a guardarsi attorno. Ma intanto la storia dimostra che la presenza di Ryanair è diventata strategica per questo aeroporto e per le cose già dette reputo che non sia facile rinunciare a una compagnia così importante che sia rivelata peraltro così decisiva per il successo del nostro aeroporto internazionale. Dunque la prima opzione certamente resta quella di fare qualunque sforzo per mantenere la continuità della presenza di Ryanair. Certamente poi senso di responsabilità ibrica che ci si guarda intorno e che si coltivino tutte le opportunità che il mercato offre.